I giovani d'oggi, prima di tutto dobbiamo dire che sono una risorsa preziosa e mi verrebbe da dire quasi da tutelare, quasi in via d'estinzione. I dati della demografia che l'Istat racconta e cerca di rappresentare mettendoli a disposizione di tutti, cittadini e istituzioni, ci dicono che avremo una società con sempre meno giovani. La popolazione diminuisce, la popolazione invecchia e quindi occorre prepararsi a sapere che cosa succederà nel prossimo futuro e a come investire su questi giovani, a come trattenerli rispetto alla fuga all'estero, oppure a come farli rientrare. Questo è un grande tema che finalmente è nell'agenda politica del nostro paese, dell'Italia, che l'Istat ha rimesso all'attenzione dell'agenda politica e su cui quotidianamente si lavora. Perché è solo partendo dalla conoscenza dei dati e dalle previsioni che anche la statistica ufficiale porta che si possono prendere le decisioni. La scuola normale racconta una storia, una storia di preparazione, una storia di conoscenza, una storia che veramente emoziona conoscendola. Ecco, il messaggio che oggi mi piace condividere e lanciare a tutti coloro che stanno e lavorano, o gli studenti, dentro la scuola normale di Pisa è non smettiamo mai di approfondire la conoscenza, la conoscenza dei dati e di capire come i dati ci lanciano verso le decisioni del futuro. Ecco perché parlare di giovani oggi è importante ed è importante conoscere anche tutte le dinamiche che li descrivono.